Fondi Lega, arresti domiciliari per tre commercialisti vicini al partito. L'inchiesta è quella sulla compravendita di un immobile per la Lombardia Film Commission. Ne conosco due su tre, sono persone oneste. Anche questa inchiesta si risolverà in nulla, il commento di Salvini. L'inviato, Giacinto Pinto. Indagato da luglio scorso, ieri sera Alberto Di Rubba, già presidente della fondazione Lombardia Film Commission e revisore contabile del gruppo della Lega in Senato, è finito agli arresti domiciliari. È stato arrestato con Andrea Manzoni, che svolge lo stesso ruolo alla Camera, e con un terzo commercialista, Michele Sciglieri. Nel suo studio milanese nel 2017 era domiciliata la Lega per Salvini Premier. Ai domiciliari anche Fabio Barbarossa, cognato di Sciglieri. Al centro dell'inchiesta della Procura di Milano, la presunta compravendita a prezzo gonfiato della sede della Film Commission, fondazione anche con capitale della regione Lombardia, un immobile a Cormano, Interland milanese, un affare da 800 mila euro, gran parte dei quali, finiti secondo l'accusa ai tre professionisti, la Guardia di Finanza durante le perquisizioni ha sequestrato numerosi documenti per la stessa vicenda. Da due mesi si trova in carcere a San Vittore, Luca Sostegni, che per gli investigatori sarebbe prestanome di Sciglieri. Gli inquirenti, oltre al peculato, si tratta infatti di soldi pubblici e in un caso all'estorsione ipotizzano anche il reato di riciclaggio. Scrive il GIP nell'ordinanza, gli indagati hanno dimostrato una spiccata capacità organizzativa avendo coordinato sapientemente le loro azioni. Dopo un affare andato male, in un'intercettazione si sente dire ne faremo altre mille, la prossima volta andrà bene, invece di 50 ne prendi 70. In mattinata il commento del leader della Lega Salvini conosco due degli arrestati su tre, sono persone oneste, si risolverà in nulla, ho fiducia nella magistratura. L'omicidio di Willy oggi.